Salvini, pare che ci sia una sorta di accordo che va avanti tra Berlusconi e Renzi per Mattarella, magari al primo colpo. Pronti voi della Lega a votarlo? Oh signor, fu ministro con Andreotti, no grazie. E che fate voi? Votiamo altri. Si era detto una candidatura? Feltri, 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 Vittorio Feltri, tutta la vita. Perché? Perché Feltri? Perché è libero, indipendente, sovrano. Allora, Mattarella fanno presidente, voi siete fuori. Se lo votano loro, se lo votano loro, auguri. E quindi sono contento stamattina, prima fra gli altri, a dire, non come ripiego, perché qualcuno pensava al presidente Mattarella come un eventuale ripiego. Il presidente della Repubblica non può essere un ripiego. Poi ho visto che nelle ore a seguire la mia proposta è diventata la proposta di tanti. Sono contento di aver contribuito nel mio piccolo a chiudere questa partita. e da oggi pomeriggio si torna al lavoro.